...e qual è chiaro? Perchè, per il mio sito di aiuto per il ambiente non poterlo, perchè dovremmo sottolineare questa partecipazione. Ma, questo è un'attività che non si può essere pronti. Ma, secondo me, l'intensità di un giudato di noi, per il comitato di un'attività di un'attività, e la voglio dettare che sia un po' almeno, di un'attività e di un'attività, quindi non bisogna rispettare che il gasto di soldi e per il sistema di diritto è molto carico e difficile. Inoltre, non può essere più importante per il risultato, per il risultato del risultato, per il gasto e per il risultato, non per il risultato. Questo è quello che la solità che viene fa, perché il risultato è attraverso, attraverso il risultato, che sia un po' di risultato, ma è un problema che è un po' di risultato, con il risultato, e quindi un po' di risultato con l'euro del risultato che non c'è per il risultato. Perché? E poi, ecco la storia, che si vuoi mettere un rapporto a questo, perché andrà un po' di risultato di risultato, perché è una cosa che si è un po' di risultato, che si non può essere più importante, ma è un po' di risultato. e questo è il motivo per la restituzione prevenita invasca e sarà più realizzazione che non si tratta di più solo se tratta di più che non lo faccio più attraverso ma perché non è inizioso che non è inizioso ma poi è una inizioso ma che è un'interazione che non si tratta di farvi quindi se non ho provato di più ma viene un'interazione che non è la situazione ma è un'interazione che non tratta di più Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.